Gli operatori informatici e le operatrici informatiche garantiscono il funzionamento dei dispositivi informatici. Installano e configurano nuovi dispositivi e li consegnano agli utenti oppure li spediscono per posta. Elaborano inoltre istruzioni per l'uso e checklist. Sono le persone di riferimento per ogni dubbio o problema con i dispositivi informatici spiegano con calma e pazienza come utilizzare le diverse applicazioni. In caso di problemi tecnici si riuniscono in team per cercare una soluzione e mettono in pratica i procedimenti necessari. Anche la gestione del magazzino fa parte dei loro compiti. Questi professionisti lavorano presso fornitori di servizi, aziende industriali e commerciali oppure nell'amministrazione pubblica. Per svolgere questa professione servono attitudine al lavoro sistematico, capacità di ragionare in modo logico, organizzazione e voglia di interagire con i clienti.